Buon dia a tutti da TeleAltobut. Enzika Stang, il gruppo alpin dall'Alto Butta, l'ha organizzata in tazornade dal 17 di gennaio del 2015 la marce in Tenev in riguardo da campagne di Russia. Nuto Revelli ha riguardo così che il momento, l'ultima battaglia della nostra ritirata di Russia, la battaglia della disperazione e della salvezza per sfondare lo sbarramento sovietico a Nikolaeska. Iniziò a luna di notte del 26 gennaio 1943. La morte vicina di a Cielo da campana, che suona, che suona, che suona. Il momento, l'ultima battaglia della nostra ritirata di Russia, la battaglia della nostra ritirata di Russia, la battaglia della nostra ritirata di Russia. Non è il sole che illumina gli stanchi gigli di neve sulla terra rossa. Gli alpini vanno come angeli bianchi che ad ogni passo popolano una fossa. Gli alpini vanno come angeli bianchi che ad ogni passo popolano una fossa. Gli alpini vanno come angeli bianchi che ad ogni passo popolano una fossa. Gli alpini vanno come angeli bianchi che ad ogni passo popolano una fossa. Gli alpini vanno come angeli bianchi che ad ogni passo popolano una fossa. Gli alpini vanno come angeli bianchi che ad ogni passo popolano una fossa. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. anche a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. e 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 tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti.